PNRR, rigenerazione urbana sui fondi a cui potranno accedere i comuni faccia a faccia tra il sindaco di Treviso e il presidente Anci Conte e il ministro Gelmini. Bisogna intervenire prima dell'elezione del capo dello Stato l'appello al governo. Rientro in classe tra mille incognite per il tracciamento, la regione schiera anche farmacia ed esercito, nella March in 300 sospesi tra insegnanti e personale ATA, a casa per il virus circa 3.000 studenti. Sul fronte trasporti ha prevasso il buon senso, dice il presidente di Mom con la donna, niente obbligo di Green Pass rafforzato per i ragazzi, 70 gli autisti che mancavano tra quarantena e permessi. Il è difficile, il ritorno in classe all'istituto Mazzotti, un minuto di silenzio per ricordare Carlotta De Rossi, morta da appena 18 anni, il pensiero commosso della vicepreside, pianteremo un albero per ricordarla. Controlli dei carabinieri del Nassi in 20 case di riposo per anziani tra Treviso, Belluno e Venezia nel mirino rispetto delle normative anti-Covid e la regolarità dei Green Pass del personale. L'eurodeputato leghista da Rep parla dopo la polemica per le critiche al segretario Salvini in tema di vaccinazioni, serve sintonia, dice, tra i vertici del partito e gli amministratori per fare squadra contro la pandemia. Inaugurato oggi all'istituto compressivo di Ponte di Piave nel Trevisiano, un murale sdedicato alla lingua italiana dei segni arriverà sotto forma di deflian a tutte le scuole del comune. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso, dunque questi titoli di oggi, ma in primo piano, si è conclusa proprio da pochi minuti la conferenza stampa del Premier Draghi, durante la quale accanto al Ministro Roberto Speranza e al Presidente del CTS Franco Locatelli ha illustrato le ultime misure prese dal Governo, dal Super Green Pass all'obbligo vaccinale per le over 50. Il 2022 è un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza, ma anche con fiducia e soprattutto con unità le parole del Premier. L'anno scolastico va protetto e tutelato, la didattica a distanza crea disuguaglianze. Un altro passaggio ha riguardato l'emergenza sanitaria, non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, ha spiegato il Premier, gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Quindi c'è l'ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose. Gli ospedali, ha sottolineato, sono sotto pressione soprattutto per gli effetti del virus sui non vaccinati. Più in generale Draghi ha poi dichiarato la sua intenzione di minimizzare gli effetti economici della pandemia. E dunque siamo al nostro sondaggio di oggi che riguarda proprio la scuola. Dunque scuola, era giusto chiudere? Dunque se siete d'accordo dovete rispondere sì e quindi 04221626691. Oppure se non siete d'accordo quindi è no, dovete comporre lo 04221626690. Ovviamente il risultato di questo nostro sondaggio nel corso della trasmissione in prima serata Ring. Ed ora parliamo della polemica infuocata dei fondi per la rigenerazione urbana. Oggi pomeriggio a Padova l'incontro tra Mario Conte in qualità di presidente Anci e il ministro Gelmini. Bisogna intervenire prima dell'elezione del capo dello Stato. L'appello dei sindaci al governo o dal governo sono arrivate precise rassicurazioni. Ho chiesto al ministro però che la soluzione deve essere trovata prima della nomina del presidente della Repubblica perché non vorremmo che poi cominciasse una fase di confusione, di instabilità governativa e quindi il famoso andrà tutto in canarina, francamente sarebbe una delusione difficile da accettare. Quindi le nostre fasce sono sempre pronte per fare un viaggio a Roma. Trovare una soluzione in tempi brevi per i fondi destinati alla rigenerazione urbana prima che politica e istituzioni si facciano prendere dalla frenesia del Quirinale. Questo l'appello del sindaco Mario Conte, presidente dell'Anci regionale al ministro Maria Stella Gelmini a Padova per lanciare le azioni del PNRR. Conte ha chiesto lo scorrimento della famigerata graduatoria che per il 93% ha visto premiati i comuni del sud e quantificato l'importo necessario per i municipi veneti. La graduatoria è pronta, c'è una parte finanziata e una parte esclusa. Per finanziare la parte esclusa che è stata ammessa da un punto di vista tecnico servono 900 milioni. Chiediamo soltanto però che le comunità venete abbiano lo stesso trattamento di quelle del sud che ci venga riconosciuto il nostro impegno e le nostre esigenze. Precise rassicurazioni sono arrivate da Gelmini che però ha sottolineato come i criteri fossero stati condivisi con l'Anci nazionale ma al di là delle sottolineature c'è l'impegno. Ne ho parlato anche con il ministro dell'economia, con il ministro d'Inca. Da parte del governo c'è consapevolezza di questa preoccupazione, di questo problema e è già stato approvato in finanziaria un emendamento per fare in modo che 2 miliardi di residui di competenze regionali possano essere finalizzati anche alla rigenerazione urbana, anche al recupero di questi progetti. Gli strumenti finanziari dai quali attingere, assicura il ministro, ci sono. Stiamo pensando ai residui della finanziaria piuttosto che a quel 20% di FSC che riguarda il centro nord per indirizzare queste risorse e poter dare un contributo concreto rispetto ai progetti della rigenerazione urbana che non sono stati ancora presi in considerazione. Dunque un rientro in classe tra mille incognite per quasi 600 mila studenti veneti per il tracciamento. La regione schiera anche farmacie ed esercito. Faremo ancora una volta il massimo ma c'è un limite umano, dice l'assessore Lanzarin. Sono state destinate delle unità mobili da parte dell'esercito per lo screening nelle scuole che quindi potranno insomma anche questi andarci ad aiutare in quei contesti dove sappiamo poi c'è un intasamento un po' più importante. Scenderà in campo anche l'esercito per garantire il tracciamento nelle scuole del Veneto dove oggi sono rientrati in classe tra dubbi e polemiche quasi 600 mila studenti. Regione e Commissario Figliuolo hanno quantificato le risorse a disposizione. Noi avevamo la previsione di una unità per azienda sanitaria, quindi vuol dire per il Veneto 9, 9 unità che sono formate oggi da un dottore e da due infermieri. Molto di più potranno fare le farmacie, ora abilitate anche per lo screening scolastico, novità saliente degli ultimi provvedimenti. La previsione inserita nel decreto che non era prevista prima, che quindi le farmacie potranno effettivamente effettuare anche questo screening di autosorveglianza, ci va ad aiutare perché potrebbe essere che poi la classe individui, la farmacia del paese si mettono d'accordo in una sera, appunto in un'ora della serata per portare tutti i bambini a fare lo screening. Esercito e farmacie sono quindi una prima risposta con il presidente Zaia che continua però a chiedere una risposta univoca al CTS sul nesso tra rientro in aula e curva epidemica. Un dato è ormai evidente. Dobbiamo essere molto molto onesti che con numeri come quelli che stiamo vedendo oggi è veramente impossibile pensare al tracciamento, ai contattressi, a fare le telefonate, a chiamare, ad avere il tampone in tempo reale, cioè è automaticamente e umanamente impossibile. Intanto il contagio sale, proporzionalmente meno i ricoveri, anche se i decessi nelle 24 ore causa Covid sono stati 23. 215 posti letto occupati in terapia intensiva, quasi 1600 in area non critica, in termini di colorazione, questa è la prospettiva. Secondo me rimarremo gioia anche tutta la settimana prossima. L'altro fronte è quello delle vaccinazioni con il superamento nel weekend della cifra Monster di 9 milioni e mezzo di somministrazioni in Veneto, con lo stesso filuolo che ha annunciato vaccini anche di notte, visto l'obbligo per gli over 50. Nessuna preclusione per la regione, ma resta il nodo di sempre. Se serve è chiaro che noi abbiamo aperto anche per il passato i centri vaccinali fino alle 24, alle 23, quindi se serve noi siamo pronti. Anche qui però ricordiamoci che c'è sempre un problema legato al personale. Alla fine è prevalsa la linea del buon senso, gli studenti trevigiani diretti questa battina a scuola non hanno dovuto esibire il super green pass, ma la certificazione base. 70 invece gli autisti che mancavano però all'appello tra quarantene e permessi. Abbiamo pensato di usare anche il buon senso. Il buon senso vuol dire cercare di capire come comportarci con i ragazzi e quindi fare un controllo che sia informativo e preventivo e non assolutamente repressivo. Alla fine la linea è stata quella di non chiedere agli studenti trevigiani il super green pass, ma solo la certificazione verde base, comprensiva cioè anche di tampone. D'accordo con la prefettura e come anticipato dal nostro telegiornale si è optato per un'interpretazione estensiva dell'ultima ordinanza del Ministero della Salute che in zona Cesarini domenica mattina ha concesso una deroga fino al 10 febbraio al trasporto scolastico dedicato. Espressione di per sé ambigua ma nella quale per l'appunto si è deciso di inserire anche il trasporto pubblico locale, non solo scuola bus ma pure bus di linea. Risolto il nodo che tanto preoccupava molte famiglie della marca, resta però il problema organizzativo relativo al personale, questa la contabilità di giornata. Mi mancano 70 autisti su 475, diciamo che una trentina sono quelli riducibili che ovviamente non si fanno nemmeno il tampone e un gran numero, oltre 40 sono quelli che sono in malattia ma tanti sono in quarantena e quindi c'è anche questa gravata e poi abbiamo un certo numero di persone che sono impermesse. Fortunatamente SempreMOM conferma che dalla prossima settimana ci saranno 9 autisti in servizio dopo il concorso svolto nelle scorse settimane. Serve a questo punto, ribadisce Coladon, accelerare per un obbligo vaccinale generalizzato per gli autisti indipendentemente dall'età. L'assurdo è che se io monto per 10 minuti in autobus come utente ho l'obbligo del rafforzato mentre chi resta 6 ore a guidare in mezzo e ha 49 anni può avere quella base, lei capisce che questo è un controsenso. Continuiamo a parlare della prima lezione degli studenti nella marca, una ripartenza in salita a partire dai trasporti fino alle nuove regole della quarantena. Al momento nella provincia è stop per circa 3.000 studenti e 300 addetti del personale scolastico. Questa mattina è tornata a suonare la campanella nelle scuole di tutta Italia, un ritorno sui banchi in vista di un nuovo anno e alla luce del nuovo decreto che ridisegna le misure anticontagio scolastiche a partire dai trasporti. È difficile far chiarezza quando alla domenica escono circolari interpretative. Io mi sono sentito questa mattina con il presidente Colladon, il quale con il buon senso adesso interpreterà questa ulteriore deroga estesa anche a tutto il territorio che prima era riservata solo da alcune, mi sembra, da regione Sicilia, di poter andare fino ai primi di febbraio anche con il Green Pass base nei bus di trasporto scolastico dedicato. Mi dicono che oggi sostanzialmente il sistema abbia tenuto. Speriamo ci sia chiarezza presto e che comunque la gente vada a vaccinarsi perché questo qui risolverebbe il problema alla radice. Una ripartenza in salita per la scuola a causa del continuo aumento dei contagi che pone non solo il problema organizzativo delle nuove regole di quarantena ma anche quello della repribilità di personale supplente. Penso che tra tante le opinioni sia tanta la confusione purtroppo e anche l'ultimo decreto non ha contribuito a rendere più semplici le cose ma più complesse. Certamente le tante quarantene che ci sono oggi impediscono a tanti docenti di essere in cattedra. È proprio un problema organizzativo. Il governo ha scelto di tornare in classe ma si trova a fronteggiare un'Italia spaccata in due. E' allarme infatti quello lanciato dai presidi che prevedono entro una settimana 200.000 classi in DAD. Io credo che la DAD in qualche momento è necessaria, non ci siano alternative. In questo momento vediamo un po' come vanno perché adesso c'è questa ondata di positivi che però erano a casa. Il problema bisognerà vederlo da domani in avanti per gli studenti che saranno positivi ma che erano in classe e quindi scatteranno le nuove misure che prevedono che dal secondo positivo in classe per le scuole superiori ci sia una frequenza differenziata. La grande difficoltà è riuscire uno ad avere la documentazione da parte degli studenti visto che questo compito dalla circolare ricade sui dirigenti e sulle scuole e averli in tempi abbastanza rapidi. Quindi adesso stiamo definendo e cercando di capire bene le procedure perché la parte difficile dovrebbe essere quando succede per le scuole superiori il secondo caso di positività. I controlli sono stati effettuati in mattinata sui mezzi pubblici anche dagli agenti della polizia locale che hanno certificato il possesso dei green pass rafforzati da parte di autisti e viaggiatori, studenti esclusi. Controlli definiti di routine anche ai tavoli dei bar mentre nel pomeriggio l'occhio dei vigili si spostava sul rispetto delle norme anti-covid nelle palestre. E rientro tra i banchi segnato dal lutto e da ricordo per i compagni di Carlotta De Rossi, la 18enne morta in seguito ad un incidente stradale. Gli studenti dell'istituto Mazzotti hanno osservato un minuto di silenzio il pensiero commosso della vicepreside. Pianteremo un albero per lei perché resti con noi. Il banco vuoto fa spazio a lacrime e ricordi, allo smarrimento, alle riflessioni dei compagni, degli amici con cui condivideva gioie e risate quotidiane, dei professori che non trovano le parole di fronte alla tragedia. Triste rientro per i ragazzi della Quinta A che oggi hanno osservato insieme a tutti gli studenti e al personale dell'istituto turistico Mazzotti un minuto di silenzio per ricordare Carlotta De Rossi, la 18enne vittima di un incidente stradale, avvenuto il 27 dicembre mentre era a bordo di un'auto con altri tre amici. Con i ragazzi abbiamo parlato durante la prima ora insieme ad alcuni docenti della classe. C'erano anche i nostri esperti dello spazio ascolto in modo da aiutare i ragazzi. I ragazzi hanno parlato liberamente. È stato un bel momento di ricordo e di condivisione. Molte le iniziative per tenerla nel cuore. Dalla veglia a Fontane di Villorba in cui i parenti e amici hanno fatto salire al cielo 18 lanterne luminose all'albero che sarà piantato nel giardino dell'istituto cui i ragazzi affideranno bigliettini, peluche, piccoli oggetti per far vivere e germogliare insieme e per sempre la sua presenza. Faremo una cerimonia simbolica in ricordo della nostra Carlotta. Pianteremo un albero nel giardino della scuola in nome suo e verrà fissa un cartellino e ci sarà una cerimonia in cui i ragazzi parleranno, i docenti parleranno, un ricordo. Questi alberi poi crescono e per noi sono i nostri ragazzi che rimangono con noi. RSA nel mirino dei NAS, i controlli hanno interessato Treviso, Belluno e Venezia, non solo una ventina. Le strutture ispezionate nelle tre province non sono emersi grandi irregolarità a livello nazionale. Comunque sono 107 le RSA, case di riposo, comunità alloggi e case famiglie trovate irregolari sulle 536 ispezionate in tutta Italia dai carabinieri del NAS. Lo comunicano gli stessi carabinieri che hanno sanzionato 52 persone per violazioni penali, 87 per illeciti amministrativi e per 80 mila euro. Riconducibili a carenze igieniche e strutturali, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza autorizzata, in osservanza delle misure anti-covid, presenza di personale non qualificato e privo della previa vaccinazione. Ed ora siamo alla crona che torniamo a parlare dei danni al covid point di Dossone di Casier. Per ora nessuna rivendicazione, hanno detto i carabinieri. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, serrate alle indagini dei carabinieri per risalire ai vandali che domenica notte hanno danneggiato il covid point di Dossone. Per il momento nessuna rivendicazione dell'atto, ogni ipotesi rimane aperta. Gli investigatori non solo stanno visionando i filmati delle telecamere installate nella zona intorno al centro tamponi, ma stanno raccogliendo anche informazioni e testimonianze. Intanto, già nella mattinata di domenica il servizio è tornato attivo. Se i responsabili avessero voluto provocare ritardi o causare disagi, hanno dovuto fare i conti con l'operatività del personale che ha subito sistemato tutto. Un atto comunque che ha provocato indignazione. I sanitari lavorano 24 ore su 24 e quello che è stato fatto non solo è il responsabile, ma è il rispettoso per chi lavora e per i cittadini. Non so neanche come definirli. Si permettono di fare questi atti vandalici? Credo che davvero non ci sia nessun tipo, non si possa fare nessun tipo di commento. Io penso che nel momento in cui avvengono gesti di questo tipo, poi la magistratura farà il suo corso e ci dirà come sono andate veramente le cose, ma gesti di questo tipo sono assolutamente ingiustificabili. Un atto grave secondo la Presidente della Conferenza dei Sindaci, Paola Roma. Un atto assolutamente da condannare e invece ringrazio tutte le persone che stanno dando una mano ai nostri centri vaccinali, ma anche ai Covid Point, per tutto il lavoro che fanno e le amministrazioni a tutti i colleghi che hanno dato la propria disponibilità. Davvero dobbiamo cercare di fare squadra piuttosto che creare queste situazioni che creano solo disagio ai nostri cittadini, in una situazione in cui dovremo solamente vedere la luce fuori dal tunnel. In questo modo si fa un danno enorme alla comunità. Non ci sono parole per definire questo tipo di attacchi, mentre l'Italia, a causa della pandemia, rischia di fermarsi mettendo in difficoltà imprese, giovani e famiglie, lo afferma in una nota il Presidente di Union Camera del Veneto, Mario Pozza. Le indagini continuano e presto i responsabili potrebbero avere un nome ed un cognome. Il Sindaco Renzo Cararetto ai nostri microfoni aveva già annunciato che gli autori saranno chiamati a sistemare e pagare tutti i danni. Vettrata mandate in frantumi, maniglia della porta rotta e le transene gettate in un fosso vicino. Un atto certamente non realizzabile da una sola persona. Obbligo vaccinale per gli over 50, mentre il commissario straordinario Figliuolo annuncia che gli abbe vaccinali potrebbero rimanere aperti anche di notte in via straordinaria per consentire l'immunizzazione, resta il dibattito fra i trevigiani. L'obbligatorietà nell'ambito dei vaccini non la vedo una cosa molto illuminata. Sull'obbligatorietà è difficile decidere perché chi non vuole farlo non lo fa neanche con l'obbligo. Troverà i suoi escamotage per non farlo. È giusto per tutti. Serve per la salute di tutti, direi proprio di sì. È giustissimo, anzi per tutti quanti, è giusto per tutti. Con il vaccino sono d'accordo perfettamente, la terza dose, sono d'accordo, le ho fatti, ma è l'obbligo o no? Sì, giustissimo, non vedo controindicazioni, diciamo, anzi, ha maggior ragione. Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Andrea Soligo, l'elettricista di 25 anni di Vede Lago, morto in seguito ad un infortunio sul lavoro a Tezze, sul Brenta. In giornata il conferimento dell'autopsia disposta dalla procura della Repubblica di Vicenza che indaga sull'episodio per il quale risultano indagati i titolari delle due ditte coinvolte nella vicenda, quella di Riese per la quale il giovane lavorava e quella per la quale stava eseguendo dei lavori di manutenzione. Solo ad autopsia effettuata sarà concesso il nulla ossa alla sepoltura del ragazzo sposato e padre di due bambini di 2 e di 4 anni. L'eurodeputato leghista Gian Antonio D'Area, al centro della polemica per le critiche rivolte al segretario Salvini riguardo al tema delle vaccinazioni anti-Covid, spinge sulla necessità di una sintonia tra vertici del partito e amministratori per fare squadra contro la pandemia. Sicuramente ci saranno dei provvedimenti disciplinari, l'ho visto dai giornali, stiamo a vedere, credo di aver espresso una posizione che è la posizione dei nostri amministratori, non credo sia una posizione politica, decideranno e faranno le loro valutazioni in completa armonia e sintonia. Gli è costato un procedimento disciplinare con il rischio di essere espulso dal partito, l'esternazione fatta al Corriere della Sera sulla posizione dei vertici della Lega in tema di vaccinazioni anti-Covid, in cui avrebbe messo in luce la contrapposizione tra una Lega romana e una Lega del territorio, tuonata come una critica aperta al segretario Salvini. Per la prima volta al microfono, dopo la bufera, stempera la polemica fornendo la sua versione dei fatti, brandendo la bandiera della necessità di sintonia per far fronte all'emergenza sanitaria. È successo che ho ribadito la linea dei governatori, dei sindaci e magari che non è in sintonia perfetta con Matteo Salvini, che mi pare sia stato un po' vago, nulla di che, è solo una linea che secondo me bisogna fare squadra contro questa pandemia ed è l'unico sistema, non è certo quello di così pensare o ripensare. Pari opportunità inaugurato oggi all'Istituto Comprensivo di Ponte di Piavel-Murales in Segniando, dedicato alla lingua italiana dei segni. 3, 2, 1, go! E' dai ragazzi che nasce, si alimenta e cresce la sensibilità nei confronti dell'altro e dal murales che campeggia in questa parete della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave che si disegna l'ABC della conoscenza nei confronti di quella che è una vera e propria lingua, quella dei segni, utilizzata dalle persone sorte o ipoacustiche per comunicare. E' stato realizzato da Chiara Pierabella, artista argentina, che ha dipinto la stessa opera su un muro di Buenos Aires ed è stata contattata direttamente dalla prima cittadina di Ponte di Piave per replicarlo. Noi vediamo questo murales come un segnale non soltanto di inclusione degli alunni ma di integrazione degli alunni all'interno del nostro contesto scolastico. Infatti uno degli obiettivi fondamentali proprio della scuola è la formazione e permettere a tutti gli alunni pari opportunità educative. Nato con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani, arriverà sotto forma di Deplian a tutte le scuole del comune seguendo la scia di iniziative e corsi già presenti sul territorio. Tra l'altro Ponte di Piave già da tanti anni è attiva una importante collaborazione con la regione del Veneto che ha approvato nello scorsi anni una importante legge di civiltà per il riconoscimento della lingua dei segni e ha avviato dei programmi triennali proprio per diffondere la stessa, la conoscenza della stessa. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Ed è la cronaca ad aprire la pagina delle notizie del bellunese perché nel primo pomeriggio si è temuto il peggio a Val di Zoldo attorno alle 14.30 una mongolfera che trasportava quattro persone, tutte di origini danesi, è precipitata su via Montepunta, la strada che attraversa la frazione di Casale. I soccorsi sono stati allertati dagli abitanti del posto che hanno immediatamente avvisato anche il sindaco Camillo De Pellegrin. Fortunatamente solo una persona dell'equipaggio è rimasta ferita. Si tratta di una donna trasportata al pronto soccorso di Belluno dall'elicottero del Suem, medicati sul posto gli altri compagni d'avventura. Secondo quanto hanno potuto ricostruire i carabinieri, la mongolfiera partita da Innsbruck ha perso quota per cause tecniche, sfiorando dapprima il tetto di un garage e infine tranciando i cavi dalla bassa tensione a ridosso della strada. Da Innazona sono arrivati i vigili del fuoco, i volontari di Zoldo Alto, con i colleghi del comando di Belluno e il personale di soccorso alpino. La mongolfiera è stata posta sotto sequestro. Ed ora invece parliamo di Covid. I casi di positività si attestano sui 5-600 al giorno, quasi il doppio rispetto ai numeri della seconda ondata. Ampia offerta vaccinale sia nei centri istituzionalizzati che nelle sedi periferiche. Il punto con il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss1 Dolomiti. Circa 2.000 vaccinazioni ogni giorno vengono somministrate ai nostri cittadini. Per la gran parte si tratta di dosi booster, cioè di dosi di richiamo. Abbiamo però un evidente aumento, per effetto della nuova normativa, delle prime dosi sia in relazione all'area pediatrica ma anche in relazione agli adulti. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale in provincia di Belluno, dove la situazione epidemiologica sta mostrando il volto più severo nei numeri dei contagi più che nel tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri. La casistica però prevalentemente è una casistica che interessa soggetti già vaccinati con un quadro clinico modesto. Questa è la combinazione di due cose, la protezione immunitaria data dalla vaccinazione eseguita e probabilmente anche una minore virulenza della nuova variante Omicron. Tutta da accertare la novità della variante Delta Cron che sarebbe stata isolata a Cipro. Certamente sul territorio nazionale e anche nel nostro territorio provinciale circolano in parallelo la variante Omicron e la variante Delta. Fra qualche mese si tireranno le somme. Certo è che entrambe le varianti sono causa di contagio anche fra la popolazione vaccinata. Una cosa è certa però per i vaccinati. Il loro quadro clinico, salvo rarissime eccezioni, è un quadro clinico moderato che si risolve rapidamente. Il contrario rispetto a quanto accade ai non vaccinati nei confronti dei quali le disposizioni governative hanno un tratto evidente. C'è però bisogno di semplificazione, ammette Cinquetti. Le norme sono faticose a volte da comprendere da parte dei cittadini e con una casistica così ampia che interessa molte persone probabilmente siamo chiamati ad essere più semplici dal punto di vista normativo o almeno farci capire meglio. All'unità di crisi al quinto piano del San Martino di Belluno il lavoro prosegue senza sosta. Più di 100 persone in campo a cui se ne affiancano altrettante per l'attività ordinaria del Dipartimento. In sofferenza l'attività del contact tracing. Oggi abbiamo situazioni di incidenza di mille su centomila evidentemente questo rende quasi impossibile effettuare la presa in carico dei contatti di caso. Gestiamo, come detto, anche se con fatica, i positivi con una discreta adeguatezza. Nessun intopo per il rientro a scuola dopo le vacanze di Natale sui mezzi del trasporto pubblico locale e neanche le novità anti-Covid introdotte per il trasporto pubblico locale hanno creato disguidi sui mezzi di Dolomiti Bus. L'azienda locale, tramite il proprio personale delegato, ha effettuato le verifiche dei green pass agli studenti diretti verso gli istituti scolastici di Belluno. Tutte le persone controllate hanno mostrato di essere in possesso delle certificazioni valide. L'atteggiamento di studenti e lavoratori è stato collaborativo. L'invito agli utenti è quello di continuare nel rispetto di tutte le misure per prevenire il rischio di contagi sui mezzi pubblici. In particolare, sottolineano da Dolomiti Bus, si ricorda l'obbligo di indossare mascherine esclusivamente di tipo FFP2 come previsto dalle disposizioni vigenti. Dunque oggi i cancelli dell'ACC si sono aperti di nuovo per i lavoratori a cui tocca ripristinare i macchinari per far ripartire la produzione. Grande attesa per l'esito della seconda gara che potrebbe chiudersi con la vendita dello stabilimento di Borgo Valbelluna. Produzione operativa dal 18 al 20 di gennaio e poi ancora altri dieci giorni nel mese di febbraio. Da oggi i lavoratori di ACC sono rientrati in fabbrica per il ripristino dell'attività produttiva. Pur in una situazione drammatica che si trascina da due anni, le maestranze stanno dimostrando nei fatti che ACC non muore mai. La fabbrica è ancora viva, con mille difficoltà, però riapre e riapre per servire un cliente storico, importante e questa è una dimostrazione che ACC non muore mai e che i lavoratori di ACC danno sempre il loro contributo perché l'azienda possa ancora considerarsi un'azienda in attività. C'è grande attesa, mancano 20 giorni alla chiusura della seconda gara e si sa che sono arrivate tre manifestazioni di interesse. Tutti i lavoratori con i quali io parlo in questi giorni sono in trepidante attesa che questa notizia arrivi. Manca veramente poco tempo, ci auguriamo che le notizie siano positive. Nel pomeriggio le organizzazioni sindacali di categoria hanno incontrato il commissario straordinario Maurizio Castro. Tutta l'operazione è coperta da massimo riservo ma quel che è certo è che si sta procedendo con le verifiche che porteranno all'offerta vincolante di acquisto e un piano industriale per dare una soluzione definitiva alla crisi di ACC. Il piano industriale dovrà naturalmente ricomprendere anche il perimetro occupazionale quindi noi ci auguriamo che tutti i lavoratori oggi in forza ACC siano ricollocati nella nuova azienda e dovremo capire che tipo di proposta, che tipo di piano industriale avrà questa nuova azienda se vorrà continuare a produrre i compressori oppure se sarà un piano di completa riconversione dell'azienda. Se tutto ciò accadrà e le premesse lasciano ben sperare seguirà una trattativa con i nuovi proprietari per le migliori soluzioni sia industriali che occupazionali per ACC. E questa sera non perdetevi in prima serata la nostra trasmissione Ring gli ospiti sono Carmela Palumbo dirigente dell'ufficio scolastico regionale Mario Conte sindaco di Treviso Lorenzo Damiano che vi ricordate il Novax che aveva contratto il virus e poi si è pentito di non essersi vaccinato Giacomo Possamai del Partito Democratico Marco Bonnet giornalista del Corriere del Veneto e questa era la nostra ultima notizia io vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo grazie davvero per averci seguito buona serata Aglio Bianco Polesano Dopp Oro Bianco del Polesini prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà scegli Aglio Bianco Polesano Dopp Benvenuti al Meteo Alta pressione, bel tempo, l'irruzione di aria artica manterrà molto bassi i termometri ancora per qualche giorno poi da giovedì sarà più mite il dettaglio di martedì 11 gennaio sul Veneto la giornata risulterà stabile e soleggiata senza precipitazioni cielo sereno o al più occasionalmente poco nuvoloso venti in quota e sulla costa a tratti moderati da nord est per il resto saranno deboli con direzione variabile temperature come detto fredde soprattutto per quanto riguarda le minime che saranno sotto zero un po' dappertutto massime invece tra 5 e 8 gradi ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove di fatto non cambia lo scenario anche qui tanto sole dappertutto e non sono attese piogge cielo limpido temperature minime tra meno 2 e 0 gradi massime sui 6-7 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove avremo un ampio soleggiamento lo vediamo qualche addensamento sui settori settentrionali ma sarà del tutto innocuo temperature minime intorno a meno 3-2 gradi massime infine sui 7 gradi all'incirca dal meteo di Antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione e arrivederci aglio bianco polesano DOP oro bianco del Polesine prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà scegli aglio bianco polesano DOP grazie per l'attenzione